Io volevo fare un piccolo giochino, ho visto tutte le persone con cui ho lavorato, mi piaceva fare un piccolo giochino e un piccolo ricordo, io ti dico un nome, magari una suggestione, un ricordo. Mauro Bolognini. Non si può parlare di Fugaccio. Sì, è difficilissimo. Io ho fatto tre film con Mauro. Mauro sta a Peppino Padroni Riff in teatro, sono coloro che mi hanno dato il là a questa mia carriera. Mauro con Metello nel 69, avevo 18 anni e mi sono trovato a fare questo ruolo, a ricoprire questo ruolo e di cui lui ha provinato personaggi come Delon, come Belmondo, come Clémenti e li aveva sempre rifiutati. Poi mi ha visto per caso in televisione al Cantagiro e mi ha detto quello è Metello e vabbè. E poi devo tutto a Mauro, cinematograficamente parlando. Devo tutto a Peppino, se continuo questo mestiere, perché lui mi ha dato quell'iniezione di teatralità, di teatro, che io assolutamente sicuramente non avevo. O almeno lui ha intuito, ha sentito, ha subdorato che ci fosse. E nel 75 mi ha fatto debuttare in questa bellissima pièce teatrale che era di Viviani, Napoli, Gresti e Chi parte, con un enorme successo da parte dello spettacolo. Un po' è meno mio, perché ero sconosciuto, insomma, anzi, ero con i fucili puntati. La sera parlavano di tutti, forché di me. E poi Massimo Ranieri in questi sei ruoli, perché facevo sei ruoli. Però vabbè, passava in secondo ordine, perché è così, va così, si arriva sempre, no? Si va a vedere una nuova realtà. Poi io venivo, come mi dicevano all'epoca, un cantante che viene dalla canzonetta non può mettere i piedi in teatro, insomma, nel teatro togato. Comunque va bene così. Grazie a lui. E ovviamente, vabbè, tanto ci arrivi adesso. Ho letto già il nome della persona che è l'abbinamento di un altro nome. Grazie a Peppino, comunque. Ecco, no, io volevo, prima la curiosità grandissima. Yul Brynner. Sì, Yul Brynner è stata una gran sorpresa per me. Ma Yul Brynner com'era? Perché io non ci credo, cioè, secondo me, credo più a Babbo Natale che era Yul Brynner. Cioè, aveva questa figura stranissima. Sì, io ho fatto due film con lui. E devo dire che quando ci siamo incontrati in Spagna per questo film, 40 anni fa oramai quasi, e io ero stato, diciamo così, scelto da Kirk Douglas, perché quell'anno Kirk Douglas era presidente di Cannes, del Festival di Cannes, e stavano cercando il ruolo per questo ragazzino. Il faro in capo al mondo. Il faro in capo al mondo, tratto da Yul Brynner. E lui era presidente, chiamò la Paramount e disse, ho trovato finalmente il ragazzo che cerchiamo. E fa questo film, è il protagonista di questo film, Metello. Bene, mi scritturano, le cose all'americana, mi hanno fatto arrivare in Spagna. e un mese intero non ho mai girato, spesato, beh, una pacchia di quelle memorabili. In un posto meraviglioso, poi Cateches, sulla Costa Brava, un posto meraviglioso. Non ho mai girato un minuto o uno di pellicola. Nulla, un mese inferiore. Però puntualmente la mattina mi venivano a prendere, alle sette, andavo al trucco, mi truccavo, me ne andavo sugli scogli a pigliazzole, mi chiamavano, Mr. Ranieri, come on, breakfast, cioè il lunch, e andavamo a mangiare. Dopo, ritornavo, sempre un mese così. Sono tornato in Italia, e in quell'occasione arrivò Yul Brynner. Premesso, premetto che, prima, Douglas, io gli ho detto, ma com'è Yul Brynner? Provei conoscerlo, perché per me, ovviamente, King of Dye, è un mito. I Western, le cose, i Magnifici 7, insomma. E lui mi disse, ma insomma, lascio se uno un po' gonfiato, uno così, tutto tronfico. E in effetti, quando arrivò, mi sembrò tale, perché manco mi salutò. Vabbè. Cambiamo pagina, dopo sei anni, rifacciamo un altro film insieme a Napoli. E ho scoperto... Un film con la Boucher? No. Esatto, esatto. Cos'era? Con la rabbia agli occhi, un titolo orrendo, mentre in inglese era Shadow of a Killer, l'ombra del killer. E il cast era lui, Martin Balsam, Barbara Boucher e io. Ho scoperto un uomo assolutamente generosissimo, un grandissimo uomo, uno socialmente impegnato, perché faceva parte del comitato di presidenza dell'UNICEF. Your Brain era uno... io sono stato a stretto giro di gomito tutti i giorni, giravamo tutti i giorni insieme, in più la sera a cena. e lui mi raccontava che lui andava personalmente, a spese sue ovviamente, in Vietnam con la macchina da presa e andava a fare le riprese sottoterra dove erano nascosti i vietnamiti, rischiando la vita ovviamente. E ho scoperto un uomo assolutamente eccezionale, ma veramente eccezionale. E mi ha confessato che quando lui andava con la truppa a girare queste scene in Vietnam, il suo aiuto regista era Sidney Lumet. Penso perché no. E scopri delle robe... Un uomo affascinantissimo, grandissimo cuore, grande intelligenza e quant'altro. Io sono rimasto molto affascinato e sono grato a Douglas di avermelo fatto riconoscere, perché è stato un incontro meraviglioso. E poi la cosa bellissima è che si portavano le mozzarella da Napoli, diceva. J'adore le mozzarella. Ma si muodivano un po'. E io gli facevo comprare le mozzarella e se le portavano nel suo castello della Loira. Ma perché forse le ricordavano anche un po' la volta cranica. Sì, vuotarsi, vuotarsi. Ma allora, Vittorio De Sica... Mamma mia, quando ce ne avrei io? Vittorio De Sica, Enrico Maria Salerno, Steno, Cito Maselli, Anna Magnani. Sì. Anna Magnani? Eh, Anna Magnani, è Anna Magnani, basta, punto. Sì. Pietro Garinei. Pietro Garinei, per chi fa questo mestiere, lui che lo faceva, perché adesso fa il cantante serio, ma finché ha fatto il cantante di musical, per lui, ma soprattutto per me, è stato ed è un mito, è il musical per Antonomasia. E grazie a lui noi esistiamo, grazie al suo teatro, grazie a quello che ha dato agli italiani a livello musicale, la bellezza dei suoi spettacoli, la grande signorilità di questo uomo, grande regista, grande scrittore, ma soprattutto grandissimo produttore. Noi siamo tutti gradi a questo signore, perché merita tutto il nostro amore totale e sconfinato, per tutto quello che ci ha dato, proprio l'insegnamento, l'insegnamento. Patroni Griffi, Beppino, abbiamo già detto, Streller. Streller, Streller, eh, sono macigni questi, sai. Porca miseria. Sono macigni perché, perché già quando c'era lui, dopo di lui c'era un quasi silenzio, dopo di lui è scesa la notte, è scesa la notte perché l'eleganza, la bellezza, la severità, la serietà, la disciplina che lui aveva, difficilmente qualcuno riuscirà a raggiungerla. Nessuno, credo. Steno, ne abbiamo già parlato, ma Steno io lo trovo un'eccezionale. Steno, Steno, Steno mi ha scoperto attore tra virgolette comico. Sì. Per il pericoloso film. Questa vena, questa vena comica tua, guarda, è una cosa fortissima. diciamo brillante. Brillante, no, sì. Magari fossi un attore comico. Io ho visto anche quell'episodio in Camera Caffè, che ha fatto la partecipazione in un episodio, era il protagonista di Punta, ma era divertentissimo. Sì, mi divertivo molto perché, perché fare l'attore comico è molto difficile, io trovo che sia l'arte più difficile, non a caso si dice, l'arte del far ridere è molto, è facile far piangere, non ci vuole niente. Far ridere, è durissima, è durissima, per cui, quando, quando posso e quando ho potuto, Steno chissà perché, ha letto queste, ha sentito questa cosa, il fatto di essere napoletano, per cui forse questo lo ha aiutato molto. Film, in cui, credo che, manco lui credesse, però, insomma, il soggetto era forte, curioso. C'era Pozzetto, e Edwidge Fennec. Edwidge Fennec, sì. e il film è stato, ero dimostro il fatto che dopo trent'anni, è diventato un caltro, lo danno in televisione. Insomma, andò molto bene, con grandi critiche, venne molto attaccato lui, perché all'epoca, il partito comunista diceva, che un operai non può essere frocio, cioè, no, ci fu una grande diatriba all'epoca. Bello, perché si poteva dire tre giorni fa, che c'era il festival qua. Ma mi ha detto che c'è qui il festival, per cui, fu molto attaccato lui in questa, da questo soggetto, però poi ebbe ragione lui, capirono lo spirito, la leggerezza di questo rapporto, che c'era tra me e Renato, e passò, e adesso è diventato un calto, uno dei grandi film di Steno, io lo ringrazio perché, mi ha fatto fare la cosa più bella, cioè, quello dell'attore brillante. Ecco.